Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del Tg6 che apriamo con la pagina dedicata alla sanità nella conferenza stampa di questa mattina tenuta all'Aquila dai vertici regionali. Il presidente Marco Marsilio ha confermato come la nostra regione si attesti costantemente tra le prime in Italia per la lotta al Covid. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Sono molto orgoglioso dei risultati fino ad oggi raggiunti sperando di non tradirli da domani ma non solo mantenere questo buon passo ma dove possibile anche migliorare perché c'è sempre da imparare. Pienamente soddisfatto Marco Marsilio di quanto fatto dalla regione Abruzzo fino a questo momento per arginare l'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese. Durante la conferenza stampa dal titolo Abruzzo miglia all'ora veloci contro la lotta al Covid il presidente della giunta regionale ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica i risultati che stanno ponendo in questi giorni la nostra regione tra le prime in Italia. Per quanto riguarda la rete Covid l'Abruzzo con il 79,9% è la prima regione per posti letto mentre con il 76,8% è la seconda in tutta la penisola per posti letto in terapia intensiva mentre con il 56,3% l'Abruzzo è prima per interventi in pronto soccorso. Numeri significativi riguardano anche la ricerca molto importante per gestire e sconfiggere la pandemia. Infatti con il 6,05% sui casi sequenziati sul totale dei campioni l'Abruzzo è la prima regione per il sequenziamento delle varianti. Stesso risultato anche per quanto riguarda gli screening di massa partiti dall'Aquila ormai mesi fa quando il governo regionale istituì le prime zone rosse. Passiamo poi alla campagna vaccinale. L'Abruzzo ad oggi si attesta con il 91,4% come terza regione in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle distribuite facendo registrare due punti sopra la media nazionale. Così ad oggi la nostra regione ha già vaccinato il 50% della popolazione con 623.000 persone i quali hanno ricevuto almeno una dose a discapito della media nazionale che si attesta al 49,4%. Entro il 18 giugno poi ci saranno i primi comuni, 93 sotto i 1.000 abitanti, completamente covid free. Così, secondo alcuni studi, tra il 21 e il 24 agosto l'Abruzzo potrebbe ottenere l'immunità di gregge. Io credo appunto che la regione Abruzzo abbia fatto un buon lavoro, che possiamo essere orgogliosi, lo possano essere anche i cittadini abruzzesi di come la loro regione e la loro sanità sia amministrata. La conferenza è stata l'occasione anche per rassicurare la popolazione abruzzese sulle ultime notizie poco confortanti riguardanti il vaccino AstraZeneca. Sull'argomento è intervenuta l'assessore regionale con delega alla sanità Nicoletta Veritti. Con un confronto attivo e costante con il dottor Brucchi, che ringrazio, siamo dell'avviso e quindi seguiremo la linea, ma oltretutto questa linea viene dettata proprio dalla non accettazione del vaccino AstraZeneca ormai, quindi da un rifiuto delle fasce d'età al di sotto dei 50 anni, per cui noi continueremo la vaccinazione con la somministrazione di un altro tipo di vaccino. Quindi ugualmente continueremo la vaccinazione. Se dovessero mancare quelle dosi di vaccino sarà nostra cura richiedere ulteriori, così come abbiamo fatto sempre, ulteriori dosi per poter garantire quell'immunità che abbiamo già previsto. E allora vediamo i numeri dei contagi di questo venerdì 11 giugno. Quest'oggi sono 28 i nuovi casi di Covid registrati in Abruzzo. Il più giovane tra i contagiati ha 6 anni, il più anziano 77 di questi. 15 sono residenti in provincia dell'Aquila, 12 in quella di Chieti, 2 nel Pescarese, altrettanti nel Terramano e altri due invece provengono da fuori regione. Quanto emerso dall'analisi di 2239 tamponi molecolari per un tasso di positività dell'1,25%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.500. Si tratta di un 94enne residente fuori regione. I guariti sono 141. Il totale odierno dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle ASL relativi al periodo aprile-maggio. Gli attualmente positivi in Abruzzo quindi sono 1.532, 120 in meno rispetto a ieri. Di questi 76 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. Quattro, invariato rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 1.452 positivi accertati, 115 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. La regione istituisce le comunità energetiche, interventi regionali e promozione di queste comunità energetiche da fonti rinnovabili. Questo è il tema della conferenza stampa tenuta questa mattina a Pescara dall'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli. Il servizio è di Paolo Renzetti. Buone notizie per i cittadini abruzzesi che potranno risparmiare sulla spesa per l'energia elettrica. Con la delibera 297, la regione Abruzzo infatti si prefigge l'obiettivo di sostenere e promuovere la nascita delle comunità energetiche sul territorio, finalizzate alla tutela dell'ambiente, alla coesione economico-sociale e allo sviluppo economico del territorio. Le CER sono forme di associazioni non commerciali di famiglie, piccole e medie imprese, denti territoriali, compresi comuni che condividendo uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile, possono produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile. Consiste nel far sì che i cittadini possano unirsi in dei gruppi e produrre energia elettrica da fondi rinnovabili per l'autoconsumo. Questo è il senso, consumare quello che si produce, e produrre quello che si consuma. È un modo per centrare le tematiche della transizione ecologica e quindi è un modo per proiettare la nostra regione verso il futuro. Bisogna costituirsi in modo autonomo in dei gruppi che possono essere sia di iniziativa pubblica o iniziativa privata, quindi possono essere imprese, cittadini, condomini, possono essere enti locali che si uniscono e producono questa energia rinnovabile e nel momento in cui la immettono la prelevano. L'unico vincolo è che comunque il 40% dell'energia, almeno il 40% dell'energia prodotta deve essere destinata all'autoconsumo. La restante parte può essere quindi messa direttamente in rete. A proposito di ambiente, torniamo a occuparci delle discariche scoperte nel 2007 da Abusi sul Tirino e per cui sono ancora in corso numerose vicende giuridiche. Il Consiglio di Stato quest'oggi ha respinto il ricorso del Ministero dell'Ambiente contro la sentenza del Tarab d'Abruzzo concernente l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione dell'appalto integrato relativo agli interventi di bonifica nelle aree esterne Solvè situate nel comune di Bussi. Il Ministero aveva annullato il bando di bonifica che era stato aggiudicato dalla DECDEME nel 2019, una ditta belga, per una parte a nord della mega discarica dei veleni della Montedison. Tra i motivi la tardività del provvedimento e che un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto fosse interlocutorio e non una bocciatura. Abbiamo lottato tre anni contro questa decisione assurda del Ministero, ha commentato a Lanza il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, e dopo aver vinto al Tarra al primo grado di giudizio al Consiglio di Stato, oggi finalmente la sentenza definitiva. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del Ministero. Da domani quindi ha concluso il primo cittadino. Il Ministero dovrà soddisfare la sentenza, firmare il contratto con la ditta che sia giudicata ai lavori e dare avvio alla bonifica. Dello stesso avviso il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio. È stata smentita la linea imposta dall'ex Ministro Costa e dal sottosegretario Morassut, ha detto il Governatore. Ora il Ministero firmi subito il contratto e faccia partire i lavori di bonifica, che ormai l'Abruzzo attende davvero tantissimi anni. Noi cambiamo argomento e scontro politico sulla proposta imprenditoriale avanzata dal Presidente del Terramo Calcio, Franco Iachini, sullo Stadio Bonolis. La maggioranza del Sindaco d'Alberto si dice favorevole al progetto, mentre l'opposizione di centrodestra e anche di Italia Viva critica fortemente l'operazione. Tania Bonici Castelli. Il progetto imprenditoriale avanzato dal Presidente del Terramo Calcio, Franco Iachini, all'Amministrazione Comunale di Terramo sullo Stadio Bonolis promette investimenti per 9 milioni 700 mila euro. La proposta, che ha già ottenuto parere favorevole dagli uffici tecnici, ma che dovrà essere approvata definitivamente dal prossimo Consiglio Comunale, prevede che il privato, cioè la società soleia di Iachini, possa gestire la struttura sportiva sino al 2080, facendosi carico della manutenzione dell'immobile pubblico. In cambio, la società potrebbe realizzare interventi di natura commerciale e ricettiva all'interno dei locali dello stadio e sull'area circostante. Si è aperta così una discussione politica in città. In attesa del Consiglio Comunale, il Presidente Iachini ha voluto personalmente spiegare il progetto ai consiglieri. La maggioranza del Sindaco d'Alberto, in maniera quasi compatta, condivide la proposta. La variazione di questo PEF, quali vantaggi porterà la città? La proposta di riequilibrio avanzata dal concessionario è sicuramente una proposta molto ambiziosa. Prevede un investimento complessivo di 9 milioni e 700 mila euro sulla struttura. Interventi questi, necomplessivamente, che si concluderanno entro il 2026, quindi rispetto alla durata generica della Convenzione, vedrà la realizzazione di questi investimenti nel breve periodo. Sicuramente avremo la possibilità, quindi, attraverso l'operato del proponente, di riqualificare un'area che ha una forte vocazione commerciale ma anche sportiva, di dare vita, quindi di creare l'infa per il territorio, anche attraverso nuovi posti di lavoro che potranno essere creati attraverso la messa in regime dei nuovi servizi. Ma è l'opposizione di centrodestra ad avanzare forti dubbi sulla modifica del PEF dello stadio Bonolis e anche i consiglieri di Tagliaviva che in una nota sostengono ci sia un evidente squilibrio in favore del privato concessionario che vedrebbe così allungarsi di 42 anni la gestione dello stadio. Un imprenditore è assolutamente libero di presentare una sua proposta e l'amministrazione che resta sempre proprietaria di quelli immobili, di quella struttura che poi deve fare una sorta di mediazione attraverso la ricerca di un equilibrio e soprattutto della congruità. Ora, questo tipo di discorso ha tutte le possibilità di fare un ragionamento e ha anche l'atto a tutte le possibilità di essere variato, migliorato in consiglio comunale attraverso una discussione e anche degli emendamenti. Noi delle proposte le abbiamo fatto, c'è l'abbattimento del costo maggiore sulla struttura, un discorso legato anche a il finanziamento che può essere secondo me maggiore e quel finanziamento può essere anche dirottato in maniera più chiara, non così senza un titolo. La società sportiva Petruziana di Teramo torna a parlare dell'appalto che riguarda la gestione dell'impianto sportivo Lenaia di Di Pescara. Dopo giorni di silenzio da parte delle istituzioni la società teramano si dice pronta a diffidare la regione Abruzzo. Vediamo. A distanza di giorni la Petruziana Sport di Teramo, società che gestisce dal 2018 l'impianto acquaviva della città prutina, è tornata a parlare in merito all'argomento piscina Lenaia di Di Pescara. La Petruziana già nel maggio scorso tramite una PEC aveva chiesto alla regione Abruzzo di valutare la possibilità di affidare in concessione anche temporanea l'impianto pescarese, precisando che la stessa società sarebbe già in grado di riaprire l'impianto in tempi celeri. Un'altra comunicazione è stata inviata lo scorso 4 giugno alle organizzazioni sindacali dove la Petruziana si impegna ad una graduale riassunzione dei dipendenti della precedente gestione. Nel marzo scorso però il Consiglio Comunale di Pescara, in seduta straordinaria, aveva confermato la volontà a gestire direttamente l'impianto di viale della riviera attraverso la società Pescara Multiservice, ma pare che negli ultimi giorni alcuni problemi burocratici possa far saltare questa operazione. Domenico Narcisi, uno dei soci della Petruziana Sport, fa sapere come ad oggi non c'è stata nessuna risposta da parte degli organi politici e sindacali alle proprie richieste. Un impianto sportivo è giusto che vada una società sportiva, noi stiamo aspettando una risposta alla regione che ancora non ci ha dato. Abbiamo letto sugli organi di stampa che praticamente stanno chiamando una società sportiva di Roma che avrebbe partecipato al bando di tre anni fa, ma il bando abbia un dandemende scaduto che non prevede neanche lo scorrimento della gradatoria, quindi non si capisce questa scelta. Noi stiamo ancora aspettando, ma le naia di dipendenti sono rimasti senza lavoro, una struttura di quel tipo è chiusa mentre potevano già riaprire, come abbiamo riaperto questa di terra, stiamo aspettando. Sì, diciamo che siamo esclusi anche perché non hanno neanche verificato i requisiti, perché se verificano i requisiti avrebbero, visto che noi abbiamo tutte le carte in regola, poter sostenere una gestione di quel tipo. La Petruziana Sport, oltre alla gestione della piscina, si dice pronta, qualora fosse il nuovo gestore, a far ripartire l'attività agonistica di nuoto e pallannuoto. Noi ci tenevamo anche per far ripartire l'attività sportiva, perché come sapete a Pescara tutta l'attività sportiva agonistica del nuoto e della pallannuoto, dove c'è una grande storia, è ferma, perché addirittura il derby della pallannuoto di Pescara si è giocato ad Ancona, quindi è una cosa brutta per tutto lo sport abruzzese questo. A Pescara anche il Movimento 5 Stelle critica il progetto per le aree di risulta presentato dall'amministrazione Masci. Il Movimento 5 Stelle parla di tradimento per la città che con l'area che andrà in mano ai privati. Vediamo. Consigliere, voi parlate di tradimento per la città di Pescara per quanto concerne il progetto delle aree di risulta voluto dalla maggioranza, parlate di progetto che vedrà una gran parte delle aree di risulta in mano ai privati, è così? Sì, sì, assolutamente, in mano ai privati nel senso che è lo stesso progetto contrastato insieme allo stesso centrodestra fino al 2018, con cui sia il Movimento 5 Stelle che allo stesso centrodestra ci hanno fatto la campagna elettorale dicendo che noi in primis, raccogliendo anche 5 mila osservazioni da parte dei cittadini, che questo progetto l'avremmo fatto di tutto per fermarlo. Stessa cosa diceva il centrodestra, tutto il centrodestra è unito insieme a noi, insieme ai commercianti e ai residenti per cercare di fermare un progetto che evidentemente non piaceva a nessuno e invece poi naturalmente scopriamo che una volta arrivati al governo della città purtroppo ciò non è potuto avvenire. La scusa che hanno portato avanti sempre è impressa da quella della scadenza dei termini, che i finanziamenti andavano perduti, per cui si è provveduto a far approvare questo progetto praticamente con pochissime modifiche rispetto a quello che era stato contrastato fino a pochi mesi prima. Cosa accadrà secondo voi adesso e cosa non dovrebbe accadere invece? Niente, accadrà che sostanzialmente gli importi dalla parte pubblica sono leggermente aumentati grazie anche effettivamente all'interlocuzione del sindaco e dell'amministrazione nei confronti della regione per prendere più fondi. Ricordo 3 milioni e 9 eliminati dal progetto del Museo del Mare e trasferiti qui nell'area di Risulta, più altri fondi grazie anche al contributo di Pescara Abruzzo. Però comunque sia sono fondi insufficienti naturalmente per fare tutto il progetto e si rivolgeranno ancora una volta ai privati, che metteranno quasi 36 milioni di euro e che avranno naturalmente un loro tornaconto per poter rientrare negli investimenti. L'amministrazione comunale di Chieti ha illustrato questa mattina le iniziative che verranno poste in essere per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza e della governance dell'ente. Oggi è il primo giorno vero di formazione che coinvolge tutti i dirigenti e tutti i funzionari del Comune, perché il nostro obiettivo è nel giro di pochi mesi di adeguarci, diciamo, quelli agli standard nazionali, perché è chiaro il ritardo dell'amministrazione comunale che in questi anni non ha puntato alla digitalizzazione, non si è adeguata anche alla normativa di riferimento. Quindi stiamo velocemente cercando di metterci al pari degli altri comuni per poi spingere nei prossimi anni su un processo di digitalizzazione innovativo. Ecco, questo è uno dei nostri obiettivi importanti, proprio perché effettivamente sulla sfida del digitale oggi si gioca tantissimo in generale delle pubbliche amministrazioni, ma anche dello sviluppo locale, dello sviluppo nazionale e in generale della ripresa. Sappiamo che appunto il PNRR ha una parte consistente di finanziamento sulla digitalizzazione e noi vogliamo essere chiaramente pronti a raccogliere questa sfida e pronti a riuscire a presentare progetti chiaramente innovativi, oltre che assolvere quelli che sono gli obblighi di legge. Il processo di digitalizzazione è un processo che coinvolge la governance nell'ente nella sua interezza, quindi sia nei processi organizzativi, nei flussi informativi interni, e sia ovviamente nel rapporto con le altre amministrazioni, con i fornitori e soprattutto con i cittadini. Tanto che abbiamo già attivato e nei prossimi mesi metteremo tutti i servizi su uno sportello virtuale digitale attraverso il quale il cittadino potrà pagare tutto, quindi potrà accedere a tutti i servizi, controllare tutta la sua documentazione e ricevere per esempio, inviare le istanze, e ricevere anche direttamente il protocollo relativo a queste istanze, quindi una documentazione totalmente trasparente e immediata con il cittadino. Il Rotary Club ha donato un kit all'avanguardia al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara, uno strumento utile a individuare precocemente anche patologie come l'autismo. Un kit all'avanguardia aggiunto alle strumentazioni del reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara. Sembrerebbero dei banali giocattoli, che però si rivelano fondamentali per lo sviluppo cognitivo dei bambini, ma anche per diagnosticare, quanto più precocemente possibile, forme di autismo. Per avere adesso l'ultimo aggiornamento delle Griffith 3 ci porta ad un livello di avanguardia che potrà far sì che la diagnosi di autismo sia più precocemente diagnosticata, e quindi naturalmente più precocemente diagnosticata, più precocemente si possono attivare tutti quei sistemi riabilitativi che possano poi portare nel futuro ad una riduzione di quella che è la sintomatologia. Naturalmente questi strumenti non sono solo per il progetto regionale nella ricerca dell'autismo precoce, ma anche per il nostro follow-up dei neonati prematuri, dei neonati a termine con problematiche cerebrali importanti, perché noi qui in reparto abbiamo proprio una sezione dedicata al follow-up, per cui seguiamo i nostri pazienti con problemi fino ai due anni di vita. L'autismo è infatti ancora oggi una patologia misteriosa di cui non si conoscono le cause. Non è possibile individuarla tramite diagnosi prenatale e può manifestarsi come una doccia fredda anche dopo molti anni di vita. Il kit, dal valore di circa 2.400 euro, è stato donato dal Rotary Club ed è prezioso anche per bambini nati prematuri o con difficoltà cognitive. Il Rotary ha diverse aree nelle quali è impegnato, una di queste è quella materno-infantile e quindi ci piaceva insieme ai nostri ragazzi dell'Interact, che è la fascia di età dei ragazzi da 13 a 18 anni, di donare delle strumentazioni al reparto di neonatologia che potessero essere molto utili, visto e considerato che la terapia intensiva neonatale sta impegnata già nel progetto NIDA che serve per la diagnosi precoce di disturbi e di problemi legati all'autismo. Ma questa strumentazione sono gesti che servono agli specialisti per capire il grado di maturazione e se gli atteggiamenti, i comportamenti del bambino corrispondono a quelli tipici della sua età perché se non c'è corrispondenza allora va fatta un'indagine ancora più approfondita. E ora lo sport, cedere i dieci contratti in essere nella prossima stagione non è semplice per il Pescara. Negli ultimi giorni anche il presidente Sebastiani ha lanciato segnali che fanno pensare alla permanenza di alcuni di questi giocatori. Le incognite comunque restano tante. Andrea Costantini Quale sarà il destino dei dieci calciatori che hanno fatto parte della rosa del Pescara nell'ultima disastrosa stagione e hanno il contratto anche per la prossima in C? La prima soluzione prospettata è quella del Repulisti, cioè tutti via, senza se e senza ma come in una mossa d'impeto dovuta all'amaro verdetto della retrocessione. Repulisti motivato da necessità di resettare il progetto tecnico e da quella degli ingaggi troppo elevati per la C. Una soluzione peraltro prospettata dallo stesso Gianluca Grassadogna che quei giocatori li ha allenati ma che dopo la sconfitta di Cosenza non aveva esitato a dichiarare che qualora gli fosse stato proposto di rimanere a Pescara avrebbe chiesto comunque di mandare via tutti e a zerare la rosa. Invece oramai sembra certo che Grassadogna non resterà prossimo all'avvento di Gaetano Auteri e con il passare dei giorni si fa sempre più strada all'ipotesi che di quei dieci contratti più di qualcuno possa restare. Non è solo una sensazione. Va ricordato che la società ha diffuso un comunicato sulla permanenza di Memushai ma è stato lo stesso presidente Daniele Sebastiani che è tornato a parlare in TV negli ultimi giorni magari dopo aver ascoltato i vari agenti a lanciare input a tal proposito dimostrandosi possibilista sulla permanenza di alcuni di quei calciatori. Non abbiamo tutta questa gente da buttare nel fiume. Per quanto mi riguarda io sarei del parere come sto facendo anche nelle altre aree della società di rinnovare ma questo non significa che pronti via devi buttare tutti a mare. Le prossime settimane faranno capire se il dietro fronte è reale o se sono dichiarazioni che hanno il solo scopo di mitigare un eventuale braccio di ferro con le controparti. Certo per alcuni calciatori l'uscita sarebbe più agevole Vincenzo Fiorillo ha mercato, ha avuto proposte nelle scorse stagioni ed anche ora è nel mirino di vari club di B, tra cui la Ternana di Luca Leone che rumors danno interessata anche a Galano e Busellato per quest'ultimo sarebbe un ritorno. Ma sul piatto ci sono anche i contratti di Masciangelo, Zittà, Scognamiglio, Sorensen, Valdifiori, Drudi oltre che del predetto Memushai. Nel 3-4-3 di Auteri, tolti Masciangelo e Zittà che per caratteristiche tecniche e per età potrebbero conciliarsi con modulo e idee del tecnico siracusano gli altri invece c'entrano poco insomma un quasi repulisti sembra restare comunque una esigenza ma per vendere c'è bisogno di trovare acquirenti e di far quadrare le operazioni anche dal punto di vista economico. Notevoli grattacapi per Sebastiani e il futuro di esse. Una curiosità poi quella che riguarda il prossimo allenatore del Pescara se sarà Auteri l'allenatore guiderà la squadra meno meridionale della sua carriera e soprattutto in caso di possibile inserimento nel girone B si cimenterebbe con un raggruppamento dove non ci saranno squadre del Sud per lui che ha poco più di una stagione in Serie B e poi tantissima C sarebbe una sorta di prima volta e anche quando lo vinse con la Nocerina quello era un girone B con tantissime squadre del Sud due Umbre e tre Toscane. Si è svolta ieri sera presso il ristorante La Terrazza Verde di Pescara la cena di saluto della stagione sportiva 2020-2021 da parte dei ragazzi della primavera freschi vincitori della Supercoppa Primavera 2 ma la squadra di Ervese vivrà un grande momento nella giornata di domani la primavera bianca-azzurra infatti domani alle 17.30 Coverciano disputerà un test match contro la nazionale italiana del CT Mancini dunque meno di 24 ore dopo l'esordio degli azzurri ai campionati europei contro la Turchia. Andiamo ora in Casa Teramo a margine della discussione sul PEF del Bonolis il presidente del Diavolo Iachini ha confermato che in questo momento tutte le decisioni sul fronte tecnico sono ferme e ha dichiarato di essere felice per l'incarico dell'ex tecnico Massimo Paci ora neoallenatore del Pordenone in Serie B Ania Cantagalli Io come ho già detto in questa fase prima della chiusura di questo campionato in questo momento non sto valutando delle situazioni con altri soggetti e quindi se dovessero esserci degli altri soggetti nella squadra è giusto che queste valutazioni debbano essere quantomeno condivise non possono essere fatte a priori anche perché questa cosa potrebbe creare da parte di qualcuno che potrebbe essere intenzionato ad entrare in società giustamente se io devo entrare in l'ambito e trovo le cose fatte sicuramente non è appetibile come entrare lì e poter decidere di fare le cose Poi chiedere solo se è rimasto dispiaciuto di Paci che è andato il Pordenone oppure no? Io sono stato strafelice anzi quando Massimo Paci mi ha detto questa cosa io sono stato il primo a dire guarda che seppure avevi con me altri due anni di contratto ti avrei lasciato libero perché aver scoperto un allenatore dalle eccellenze e averlo portato nella categoria dei professionisti e aver avuto una squadra di categoria superiore io penso che sia stato un merito di questa società quindi sarei stato un idiota se poco poco avessi voluto fare delle resistenze a non farlo andare via anzi sono stato quando lui titubante me l'aveva accennato prima ancora delle cose io dico ma io se dicevo vai di corsa assolutamente penso che sia stato sarebbe stato sciocco poter fare cose di contrarre previsto che lui aveva un contratto di scadenza previsto che avevamo già parlato di eventuali rinnovi quindi però io sono stato più che felice perché vuol dire che abbiamo lavorato bene come società e abbiamo individuato un buon professionista e quindi tutto merito addirittura noi speriamo che se troviamo e valorizziamo a valorizzare dei giovani quindi avere le possibilità di incassare le cose quindi vuol dire che questa società ha operato bene Andiamo in Serie D con un gol di Cellucci dopo appena due minuti il Campobasso il Castelnuovo, perdonatemi ha espugnato il campo del Vasto Girardi nel recupero della ventottesima giornata i Nero Verdi tornano così a tre punti dalla zona playoff e domenica saranno di scena a Porto Sant'Elpidio Cambiamo argomento ora il softball dopo due turni la formazione dell'Atoms Chieti che ha vinto quattro gare su quattro e solitaria capolista alla vigilia della delicata trasferta di Nettuno ascoltiamo il presidente Luigi Salvatore al microfono di Sergio Zappalorto Presidente Luigi Salvatore dell'Atoms Chieti un'ambizione diversa quest'anno rispetto all'anno fa quest'anno le nostre ambizioni sono molto alte non ve le dico per scaramanzia però siamo effettivamente decisi ad avere il massimo delle possibilità voglio ricordare che comunque la società ha militato in A2 fino a due anni fa tanti anni certo per diverse stagioni per diverse stagioni coach quest'anno martella ma manager Loredana Marino esatto che è anche la signora tua sì esattamente quest'anno nonostante le sue ritrosie si è trovata di nuovo ficcata fino alla no oltre la cima dei capelli nella gestione della società della squadra maggiore ma senza dimenticare come al solito i piccoli anzi le giovanili e i piccolissimi perché abbiamo degli elementi veramente piccoli 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 che sono il nostro vanto purtroppo il softball italiano non la nostra piccola realtà è stato segnato dalla scomparsa di uno io penso uno degli allenatori più titolati in assoluto del softball che è Enrico Bletter purtroppo la pandemia ha portato via anche lui nonostante la sua forza nel portare la squadra nazionale della nazionale italiana alle Olimpiadi a proposito di Olimpiadi le Olimpiadi avranno una rappresentante tutta teatina che per quanto riguarda l'Abruzzo può vantare la presenza di una delle ragazze che ha iniziato con l'Atoms e che adesso gioca a livelli altissimi che è Fabrizia Marrone Fabrizia Marrone anche lei selezionata per la partecipazione alle prossime Olimpiadi e questa era l'ultima notizia tutti quanti i servizi che avete visto potete rivederli sul nostro canale Youtube e sul sito tv6.nt l'informazione termina qui grazie per averci seguito e buona serata grazie per averci seguito